Nonostante sia passato qualche anno dalla sua partecipazione al trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi continua a essere uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico da casa. Anche se, ultimamente, la dama del pomeriggio di Canale 5 si trova al centro di una polemica. Il motivo? Una foto al naturale, forse un po' troppo. Barbara ha recentemente posato, per una compagna pubblicitaria, completamente nuda, fatta eccezione per un paio di slip. Il numeroso popolo del web ha iniziato a invadere di commenti negati i profili social della dama, facendole presente che alla sua età non è decoroso posare per certi scatti, ma non solo, l'accusano di aver abbandonato con Photoshop. Barbara De Santi non ci sta e ha risposto a tono a chi l'ha accusata di non essere all'altezza della foto e di aver ricorso a troppi ritocchi grafici.48 anni ed è frutto di una vita sana. La mia pelle è così per fortuna. Se mi guardi il collo non ha una grinza ha risposto la dama di Uomini e Donne. A difenderla ci ha pensato anche il suo nuovo compagno, affermando di aver scattato lui stesso la fotografia promozionale, attraverso la fotocamera del suo telefono. . Ho aggiustato soltanto i colori e le luci. Ha dichiarato il fidanzato di Barbara. Fatevene una ragione, nonostante non sia più una ragazzina, Barbara resta ugualmente una bella donna. . Uomini e Donne, Barbara De Santi parla dello scatto che fa discutere il web Non è la prima volta che Barbara De Santi viene attaccata sul web. Se oggi il motivo è la foto un po' troppo spinta, secondo il pubblico di Uomini e Donne, ieri era dovuto al suo nuovo compagno, troppo giovane per la dama del trono over. I due si sono fidanzati durante i caldi mesi estivi e sembrano continuare serenamente il loro percorso di vita insieme, nonostante la grande differenza di età che li separa. Oltre le numerose critiche, ci sono anche tantissimi messaggi di apprezzamenti, sia per la fotografia osi e sia per il nuovo fidanzato. I commenti positivi, potrà apparire strano, sono principalmente fatti dalle donne. E si sa, se una donna fa un complimento a un'altra donna, vale doppio. Barbara De Santi è ancora nel cuore dei telespettatori di Uomini e Donne che chiedono a gran voce il suo ritorno all'interno del programma di successo di Canale 5. Per ovvi motivi, essendo la dama felicemente fidanzata, non può far ritorno nello show che ha reso popolare Gemma Galgani.